ciao raffaele ragazzi buongiorno raffaele una domanda ma esistono profilattici durex in confezioni da 144 pezzi ne ho sentito parlare ti dico la verità noi non ce le abbiamo e purtroppo ok allora ci abbiamo anche quelli da 144 ma secondo te non ce l'abbiamo allora noi siamo il sexy shop numero uno in campania sai come ci hanno chiamato qualche cliente che è venuto qua il supermercato proprio dei giocattoli sexy mamma mia che soddisfazione ho l'appuntamento con il ragazzo che deve togliere l'insegno mi deve mettere un altro insegno qua con quella di fronte dove siamo perfetto perfetto allora eccoli qua ma non ho solo che magari tu diciamo semplici allora siamo assortitissimi ce l'abbiamo a tutti i gusti vedo sottili profumati e anche xl xl o classici senti ma li troviamo soltanto negli store li puoi acquistare anche dal sito www il tempio dell eros punto com e noi ci occupiamo anche di spedizioni tutt'italia consegne a domicilio e faccio le vendite di robito allo store e possibilità dei pagamenti contro assente siamo a posta a disposizione che dobbiamo fare tutti ragazzi vi aspetto ciao 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 ciao